Mirjana Trevisan vuole nominare Soleil. Tutto si può dire a Mirjana Trevisan, tranne che non sia coerente. La showgirl dall'inizio del GF VIP ha sempre avuto un brutto rapporto con Soleil Sorge, se ne sono dette entrambe di tutti i colori, e adesso continua sulla sua strada. In molte occasioni la Trevisan avrebbe voluto nominare la Sorge, che però spesso ha ricevuto l'immunità dalle opinioniste del reality, ma le cose adesso cambieranno. Alfonso Signorini, lunedì sera, ha annunciato che quelle della scorsa puntata sarebbero state le ultime immunità. Da qui in avanti, infatti, né i Geffini, né Sonia e Adriana potranno salvare i vipponi preferiti. Proprio in merito a questo, ieri pomeriggio Mirjana Trevisan, mentre parlava con Manila Nazzaro, si è detta pronta a votare Soleil. Ragazzi, attenzione che non ci saranno più immuni dalla prossima volta. Almeno questa bella notizia, non ci saranno immuni. Quindi la becchiamo. Cosa ne pensate delle parole di Mirjana?